Bentornati! Secondo episodio della nostra Demolition Derby Career Williams Fit, Nicola Salatifi e Nikita Mazepin. Mazepin o Mazepin? Decidete voi. Sto attivando. MyFour Manager pronti, tra pochissimo sentirete in sottofondo l'audio. E andiamo a caricare la nostra carriera con la Williams. E andiamo a cambiare la nostra schermata. Ed eccoci pronti, comparirà tra 3, 2, 1, eccoci qua. Siamo pronti con la nostra live, secondo episodio GP dell'Arabia Saudita, qui su F1 Manager in questa Demolition Derby Career Fit, i due Goat. Nicola Salatifi, anche detto Goatifi, e Nikita Mazepin, anche detto Nikita Mazepin. I nostri due eroi di questa carriera. Due piloti che non hanno bisogno di presentazioni. Vediamo se riusciranno a conquistare un altro buon risultato, perché alla fine, devo dire la verità, l'ultimo risultato che abbiamo avuto non è stato male. Non è stato per niente male, perché non arrivare in penultima e ultima posizione per noi è un grandissimo risultato. E Nikita Mazepin ha dimostrato, nonostante l'overall più basso, di essere più forte rispetto al compagno di squadra Nikola Salatifi. Ha dimostrato un passo migliore rispetto al suo compagno di squadra. Siamo pronti già per andare con gli obiettivi prestazionali? Andiamo a vedere la schermata della vettura, perché voglio vedere quali componenti abbiamo in fase di sviluppo. Il sottoscocca e l'alettone anteriore. Aggiornamenti molto importanti per la nostra vettura. Cinque ingegneri a testa. Purtroppo dobbiamo andare ancora allo sviluppo delle nostre strutture. Dovremmo aver sviluppato ora, se non ricordo male, il centro di progettazione per andare a migliorare la capacità dei progetti, quindi passare a tre progetti, di modo che andremo a sviluppare tre progetti in modalità intensiva per la nostra vettura per cercare di migliorare. Per quanto riguarda i piloti, abbiamo già compiuto tutto, abbiamo preso i nostri due GOAT più il meme Cullen Williams alla Williams. Per quanto riguarda il personale, dovremo andare a vedere, probabilmente il prossimo cambio sarà David Weather, 71 di Overall. Il suo contratto scade purtroppo tra tre anni, quindi l'indennità di rescissione è molto alta. Ho deciso quindi di non cambiarlo ancora. Il capotecnico è De Maison, 74. Possiamo ancora tenerlo anche lui un progetto di tre anni. Mentre per quanto riguarda gli ingegneri di gara, bravo Bruno Goatifi, quindi il migliore di tutti i tempi. James Irwin è buono, 77 di Overall, e Guy Tanjago ugualmente 77. Quindi per una scuderia del nostro livello va più che bene. I meccanici li abbiamo già rivisti. Per quanto riguarda la squadra degli ingegneri, abbiamo dieci ingegneri a nostra disposizione. La squadra di scouting ancora non la stiamo andando a ritoccare, anche perché gli scout ci serviranno veramente poco, considerato che porteremo avanti questa squadra per praticamente tutta la carriera. Quindi andiamo nella nostra schermata di gara per gli obiettivi prestazionali. Andiamo a selezionarli, obiettivi qualifiche che naturalmente sono complicatissimi. Io direi di neanche selezionarli, perché Q2 e Q3 sono praticamente irraggiungibili, a meno che non ci siano delle condizioni di gara molto particolari. Giro più veloce ugualmente non settabile per noi. Serie posizione qualifiche, direi uno in quindicesima posizione per due Gran Premi, di più non possiamo fare, ma sarà difficilissimo riuscire a settarlo. Quasi quasi è una perdita di 70.000 dollari, quindi io direi neanche di settarlo. Non andiamo a settarlo perché non ha senso andare a perdere questi 70.000 dollari. Possiamo scendere in pista. A questo punto inizia il weekend di gara del Saudi Arabian Grand Prix. Ritorna l'AF1. Ecco uno dei circuiti più veloci del campionato, qui a Jeddah. Il Gran Premio dell'Arabia Saudita sta per iniziare e l'atmosfera è elettrica. Il circuito cittadino di Jeddah ha il maggior numero di curve e la più alta velocità del calendario dell'AF1. Cercare di mantenere una buona deportanza ad alte velocità aiuterà molto i piloti questo weekend. Anche se la stagione è appena iniziata, le emozioni non danno un attimo di respiro. In questa fase non c'è ancora nulla di certo e tutto può accadere. Non c'è nulla come un weekend di Formula 1. Questo rock mi distrugge. Siamo pronti per l'inizio di questo weekend di gara del Saudi Arabian Grand Prix. Poi andiamo insieme ovviamente i componenti montati. Lasciamo questi. Quanta usura già nei nostri componenti. Comunque lasciamo questi componenti ovviamente per questa seconda gara. Assetto della vettura. Diminuire il negativo sulla campanatura a ruote ad aumentare invece. Anzi no, a diminuire anche la campanatura negativa. Proviamo a muoverci così. 15 giri. Opzione di guida ovviamente in modalità passo molto bassa di modo da non consumare troppi componenti. e siamo pronti a scendere in pista per l'inizio delle prove libere 1. Radio check. Radio check completato. Pronto a scendere in pista. Il nostro Nicolas Latifi seguito da Mazepin. Come potete vedere qua nella schermata sono andato a correggere il driver code di Mazepin che nel passato episodio era Ala perché avevo lasciato purtroppo quello di Alatalo che sarebbe il pilota che Mazepin ha sostituito. Ora abbiamo il nostro Nikita Mazepin e siamo pronti per iniziare queste prove libere. Blocco pneumatici. Attenzione, qui è molto rischioso il blocco pneumatici. Fortunatamente Mazepin si è bloccato. Ha avuto il blocco pneumatici in una zona in cui c'è una via di fuga. Andiamo a vederlo. Qui possiamo vedere la Williams. E qui direi sì, ha bloccato le ruote. Meno male. Meno male non è andato a muro perché sarebbe stata la ruvina per noi per queste prove libere. Attenzione, bloccaggio per Mazepin ancora una volta lungo nella stessa zona in cui era andato lungo nelle PL1 quindi nessun problema per lui. Intanto 100% per Nikolas Latifi che quindi probabilmente potrà anche tornare ai box. Li facciamo fare qualche giro. Mazepin intanto 100% quindi 100% con entrambe le vetture. Possiamo accelerare. Non perdiamoci troppo in chiacchiere ma andiamo avanti con le qualifiche. Gestisci qualifiche 1 pronti a scendere in pista. No, annulliamo però perché non voglio scendere in pista subito però la fiducia ce l'abbiamo al 100% i componenti sì li abbiamo già montati quanta usura sui nostri componenti quindi sì possiamo scendere in pista per l'inizio delle qualifiche 1 tanto la nostra sessione di qualifiche durerà una sola sessione appunto le nostre qualifiche dureranno una sola sessione riconfigura, gomme rosse montate scendiamo in pista con Nikita Mazepin subito e poi a seguire il nostro Nikolas Latifi per il nostro primo giro della sessione. mi è parso che si è saltata per un attimo la connessione comunque se vi siete persi il giro non vi siete persi nulla sostanzialmente questo sto tardando un po' troppo forse andiamo Latifi e Mazepin subito a seguire non cambia molto al momento comunque siamo qualificati con Mazepin quindicesima e Latifi in diciottesima mi ero completamente perso nei discorsi che stiamo portando avanti come va il nostro giro? andiamo a tagliare il traguardo praticamente al secondo siamo scesi in classifica in diciannovesima e ventesima come dovevamo aspettarci però attenzione perché Latifi sta andando a completare il giro si è migliorato nel primo settore Mazepin non si è migliorato né nel primo né nel secondo settore che peccato Latifi va a migliorare ma rimane no si mette in diciannovesima con Mazepin che non migliora e partirà in ventesima e comunque partiamo molto vicini a Lance Stroll peccato peccato diciannovesima e ventesima posizione ma stavolta Latifi riesce a battere il compagno di squadra eliminati nel Q1 quindi come potevamo aspettarci Bottas per via dell'incidente nelle prove libere ha una penalità gli eliminati Zuno da Fettelstroll Latifi e Nikita Mazepin siamo pronti scendiamo in pista per l'inizio della nostra domenica di gara per i piloti è giunto il momento di sfidarsi all'ultimo sorpasso il giorno della gara è arrivato buona prestazione nelle qualifiche per la Williams adesso saranno impazienti di dimostrare di potersi superare in gara l'Aston Martin si è comportata molto bene nelle qualifiche conquistando una posizione in griglia in linea con le aspettative in gara avranno di sicuro la possibilità di cambiare passo e superarle in cielo si addensano nubi minacciose è molto probabile che i team debbano vedersela con la pioggia in gara qui a Jedda ci prepariamo ad assistere a una gara tanto impegnativa quanto emozionante andiamo a vedere le nostre strategie carbonante lo lasciamo così perché non ha senso spingere troppo come vi avevo detto in precedenza media hard oppure hard media possiamo schierare Latifi con media hard e Mazepin con hard media proviamo a differenziare le strategie perché Mazepin ha un passo leggermente migliore rispetto al compagno di squadra quindi secondo me può tenere tranquillamente la scia e può gestire più a lungo la gomma hard vediamo anche se c'è da dire che andare lungo con la gomma hard se c'è una safety car è un grosso vantaggio e ci può stare in effetti proviamo a partire così perché se c'è una safety car un po' più tardi anche se anche con la media possiamo andare molto lunghi c'è da dire anche questo sono indeciso però forse la media è meglio forse la media è meglio ma il consumo sarà elevato comunque della nostra gomma però partiamo con la media con entrambi cerchiamo però di andare un po' più lunghi con la nostra strategia avviamo il Saudi Arabian Grand Prix stanotte il cielo è coperto mentre i piloti sono schierati e pronti a partire diamo uno sguardo a Nicolas Latifi partirà dalla seconda metà della griglia non sarà facile recuperare tutte quelle posizioni qui vediamo la seconda vettura della Williams ieri i suoi tempi erano tra i più alti quindi oggi partirà dalla seconda metà della griglia ormai manca davvero pochissimo ci siamo quasi è il gran premio dell'Arabia Saudita siamo pronti alla partenza si spengono le luci doppietta Ferrari Leclerc Science stavo sistemando ancora qualcosa sulla chat grazie Lore per il follow stavo sistemando qualcosa più che altro su OBS per cercare di riconnettere il tutto Ard secondo me Anto ci stava poteva essere una delle due scelte però vedete Latifi ha già guadagnato una posizione andiamo a vedere le gomme dei nostri dei nostri avversari purtroppo Fettel e Stroll partivano entrambi con le hard quindi a questo punto ci stava molto riuscire a rimanere con loro però tanti partono con la soft e quindi sono sulle due soste sicuramente non piloti che possiamo tenere noi vediamo un po' qual è il nostro passo con questa gomma sicuramente con questa media possiamo andare lunghi se la gestiamo bene e riusciamo a rimanere con le due Aston Martin e possiamo sperare poi in una safety car magari in un momento che ci permetta di cambiare la nostra gomma montare la hard e andare fino in fondo mentre per quelli con la hard è troppo presto a montare la media e quindi non possono fermarsi ai box e noi guadagneremo tantissimo con questa strategia per quello ho deciso di montare la media perché sta in mezzo diciamo così e quindi se si ferma prima se arriva una safety car prima possiamo comunque montare la hard e spostarci su due soste oppure se arriva molto lunga possiamo cercare di allungare il nostro stint e provare naturalmente a poi a fermarci quando arriva la safety car Fettel intanto ha già perso il DRS e zona DRS nei confronti di Tsunoda questo dimostra quanto Aston Martin e William siano molto più lente rispetto alle altre vetture quindi dobbiamo migliorare veramente tantissimo primi giri purtroppo la Tifi sta già perdendo il DRS nei confronti zona DRS nei confronti di Fettel quindi deve spingere dobbiamo spingere anche sul carburante per riprendere il DRS non abbiamo spinto con i nostri piloti in effetti in partenza e la Tifi ha comunque guadagnato la posizione nei confronti di Stroll purtroppo avrei voluto più Mazepin davanti alla Tifi la Tifi dovrebbe comunque riuscire ad avvicinarsi ora andiamo in leggero nuovamente nella gomma per quanto riguarda la gomma e cerchiamo di mantenere la scia proviamo l'attacco con Nikita Mazepin andiamo ad accelerare e a vedere se riusciamo a prenderci il DRS col DRS a passare visto che Stroll ormai lo ha perso nei confronti di Nikolas la Tifi la Tifi che sta spingendo ora fin troppo lo facciamo andare in neutro attenzione perché Mazepin ci sta provando ma è veloce l'Aston Martin è molto veloce l'Aston Martin e ora con il DRS dovrebbe provarci ed eccolo l'attacco ma chiude Stroll chiude Stroll bravo Mazepin bravo Mazepin con la Tifi che ha passato e ora andiamo in potenza e aggressivo con la Tifi e andiamo con la Tifi rallenta l'auto dietro di modo da far riavvicinare Mazepin senza far ricansomare troppo la sua batteria con Mazepin andiamo in standard e quindi siamo in 17esima posizione con la Tifi e in 19esima con Mazepin in questo momento Mazepin che ha ripreso la Schia ecco l'offetto il blocco pneumatici per la Tifi che va lungo purtroppo eccolo il primo errore della gara stesso errore che hanno effettuato durante le prove libere quindi la Tifi ora è in ultimissima posizione però fortunatamente non ha rotto la vettura giusto? la vettura non l'ha rotta ecco il primo errore sorpasso di strolla la Tifi non c'è bisogno che lo vediamo quindi primo errore però perlomeno non abbiamo dei danni da dover ripagare la Tifi a 4 secondi e 4 ma secondo te fino a che stagione si arriverà con questa carriera allora se decidiamo di portare intanto bandiera gialla bandiera gialla avversario che ha avuto un blocco ruote vediamo se c'è qualcuno diverse auto coinvolte attenzione potrebbe esserci una safety incidente tra più vetture guerra civile in casa Haas con Mick Schumacher che ha tamponato il suo compagno di squadra incredibile Mick Schumacher ai box per quanto ci riguarda continuiamo saremo davanti nei confronti della pilota della Asuka che avrà però di che rimontare ai box già i primi piloti i piloti che montavano gomma rossa si fermano ai box addirittura Ocon e no Norris Tsunoda Ocon è rientrato davanti a Mazepin dietro a Vettel che potrà sfruttarne quindi la scia probabilmente gomma bianca e poi monteranno una gialla alla fine Mazepin in 15esima posizione con la Tifi addirittura che è ancora dietro ai piloti che hanno già effettuato il pit stop quindi Tsunoda proverà a farsi tirare un po' da Tsunoda ma non credo che riesca a guadagnare tanto Mazepin a 2 secondi e 4 do con quindi impossibile attenzione settore 2 bandiera gialla settore 1 bandiera gialla di chi si tratta potrebbe essere safety anche se non mi sembra che sia diventato giallo intenso diventa giallo intenso qui l'incidente di Hamilton andiamo a rivedere Lewis Hamilton rimane coinvolto perde il controllo e va a sbattere ma poteva tranquillamente frenare e non prendere il muro invece ha continuato e ha preso il muro le animazioni ecco un'altra cosa che per rispondere a Red che in precedenza mi ha chiesto cosa vorrei su F-Manager migliorare le animazioni per quanto riguarda gli incidenti perché veramente certe volte sono assolutamente ridicoli Leclerc Perez Alunso Russell Leclerc si è fermato i box si Leclerc si Perez Alunso Russell Zoe e Gasly tutti i box tutti si fermano i box perché il P-Stop è segnalato per il diciannovesimo giro Mazepin 8 decimi di svantaggio nei confronti di Stroll sta perdendo passo io direi di farlo spingere al massimo di far spingere al massimo anche la Tifi anzi no la Tifi no in standard fa un giro in più Mazepin spinge al massimo anzi lasciamo in neutro sulla batteria massimo carbonante e P-Stop in questo giro per lui per montare la gomma bianca purtroppo nessuna safety car ad aiutarci la Tifi farà un giro in più tanto ormai è molto lontano e farà un giro in più e poi si fermerà per il suo P-Stop andiamo a velocizzare per vedere il P-Stop di Nikita che è riuscito a riprendere la scia nei confronti di Lance Stroll standard anzi leggero per andare a gestire la gomma anzi potremmo andare anche in standard perché comunque abbiamo fatto tanti giri addirittura metà gara con la gomma gialla si ferma Nikita Mazepin per il suo P-Stop quindi andrà in ultima posizione mentre la Tifi va a spingere al massimo ora per cercare di rimontare qualcosina opzioni box anche per lui gomma hard per arrivare fino in fondo 2 secondi a 8 lento comunque il P-Stop e la Tifi rientra alla fine del giro se arriva ora una safety car impazzisco dun ora subito dopo il P-Stop di la Tifi io impazzisco perché sarebbe un vantaggio incredibile per le due Aston Martin ora con questa strategia possiamo rimontare nei confronti delle due Aston Martin sperando di avere un passo migliore dovremo avere un passo migliore il problema è che loro poi monteranno la A media e avranno un passo molto ma molto migliore del nostro 2 secondi a 7 un po' meglio il P-Stop di Latifi che dovrebbe rientrare in ultima posizione nettamente indietro rispetto al suo compagno di squadra vediamo non troppo non troppo ora Stroll si ferma i box Stroll ai box andiamo a vedere va a montare la gomma gialla probabilmente rientra con noi è probabile che rientri con noi praticamente Mazzepin sotto attacco da Latifi che andrà a passarlo in questo momento sta uscendo Stroll dai box siamo in lotta con lui siamo subito dietro a Stroll subito dietro quindi direi che praticamente la nostra gara sarà da penultima e ultima posizione ciao Luca intanto Mazzepin ha già ripreso il DRS è riuscito a riprendere a passare Latifi e ha ripreso il DRS nei confronti di Stroll bravo Nikita per ora stiamo riuscendo a difenderci quindi nonostante Stroll abbia una gomma più morbida andiamo al massimo sul carburante e vediamo di risparmiare un po' di batteria per provare i sorpassi nelle ultime fasi di gara Hamilton ai box secondo P-stop della sua gara ancora un avversario che ha allargato la traiettoria quindi possiamo accelerare che peccato abbiamo visto bandiere rosse bloccaggio di Fettel che per noi è ancora in netto vantaggio nei confronti di Stroll non ho fatto in tempo a vederlo non sono stato Mazepin ha perso il DRS e io ho completamente perso la testa ho voluto provare a farli recuperare ma Stroll se n'è andato e qui abbiamo perso la possibilità di andare a giocarci la diciottesima posizione possiamo provare a spingere ma non credo di riuscire a fare granché solo con la spinta sull'Hers di riuscire a recuperare purtroppo guadagna tanto Stroll nella zona curve batteria scarica neutro neutro e direi che la nostra gara termina qua a questo punto io sto sperando in una safety dai safety car dai safety car bandiera gialla avversario che è andato in testa coda ma ancora una volta bandiera gialla incidente dai dai safety incidente di Sainz e questa è la Ferrari per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto che brutta botta e qui Sainz si deve assolutamente rifermare per cambiare l'ala anteriore ma dovrebbe comunque tranquillamente rimanere in quarta posizione visto che ha 34 secondi di vantaggio nei confronti di Russell intanto sta iniziando l'ultimo giro Mazepin ancora davanti vediamo se tenta l'attacco la TV la TV forse ci prova forse ci prova in staccata e ci prova la TV ci prova la TV vediamo se riesce a difendersi Mazepin in questa fase rimangono affiancati i nostri due piloti la TV deve cercare di rispondere vittoria intanto per Charles Leclerc che va a vincere la gara e sinceramente non me l'aspettavo che vincesse lui mi aspettavo Verstappen Verstappen a 12 secondi e 2 Perez in terza Sainz in quarta posizione con il giro veloce andiamo a vedere la vittoria di Charles il risultato non era scontato e questa cosa rende la vittoria se possibile ancora più dolce e stiamo andando a completare la nostra di gara al momento Mazepin dietro la Tifi è riuscita a portare a termine l'attacco andiamo ad accelerare in questa fase perché qua sorpassi non se ne vedono Mazepin potrebbe avere anche giocato d'astuzia perché ora ha il DRS a suo favore non nel rettilineo principale ma anche in questa parte del tracciato qua attiva il DRS poi lo riattiverà di nuovo qua ed eccolo che prende nuovamente la scia quindi può tentare l'attacco prima dell'ultima curva on board con Nikita Mazepin che prova a farsi vedere oppure ci proverà nell'ultimo rettilineo in volata rimane dietro rimane dietro non lo so se ha fatto bene non lo so se ha fatto bene andiamo sulla Tifi e la Tifi rimane rimane davanti dovrebbe riuscirci con Mazepin non basta la Tifi taglia il traguardo davanti a Nikita Mazepin diciannovesima posizione per Nikolas ventesima per Nikita Mazepin dobbiamo migliorare tantissimo la nostra vettura siamo in attesa degli aggiornamenti che ci permetteranno magari di risalire in parte la China ma sarà lunghissima la nostra corsa per riuscire a risalire anche solo qualche posizione risultato soddisfacente per Nikolas Latifi molto concreto prestazione in chiaroscuro per la Williams ha preso delle ottime decisioni ma dovrà correggere alcune strategie di gara sì la squadra avrà molto su cui riflettere ma sicuramente resta un risultato più che discreto tirate le somme la squadra si ritrova al decimo posto della classifica costruttori per la prossima tappa la Formula 1 arriva in capo al mondo lo spettacolo sbarca in Australia sulle rive del lago di Albert Park i commentatori sono dei geni risultato discreto la penultima e ultima posizione per i nostri piloti ok vince Leclerc davanti a Verstappen e Perez Sainz col giro veloce in quarta posizione due soste per lui a causa dell'incidente Russell Bottas Alonso Guanyo Gasly e Ocon a completare la zona punti poi Hamilton Ricciardo Norris Tsunoda Schumacher Magnussen Fettelstroll Latifi e Nikita Mazepin classifica piloti Leclerc 41 Sainz 38 Verstappen 36 i nostri piloti ovviamente in diciottesima Mazepin in ventesima Latifi Stroller è in ultima posizione in effetti ora Latifi in ultima con Nikita che comunque non è in penultima classifica costruttori 79 Ferrari 63 Red Bull 26 Mercedes 24 Alfa Romeo 8 Alpine 4 Alfa Tauri e poi McLaren Assa Ston Martin e Williams a quota 0 punti proseguiamo ulteriormente come vedete potenziali di crescita non elevato per Latifi quindi non crescerà molto 1,56 per Nikita Mazepin punti sviluppo 1 proseguiamo andiamo sicuramente a andare a migliorare un reparto sviluppo queste sono le statistiche per il nostro Nikita Mazepin ho parlato di reparto sviluppo andare a migliorare le caratteristiche del nostro pilota sto parlando un po' vanvera io direi di aumentare la precisione per evitare troppi troppi lunghi troppi bloccaggi per l'uscire per non uscire fuori dalla traiettoria di gara panoramica post gara una gara difficile per noi ovviamente nono o migliore obiettivo stagionale sarà complicatissimo da raggiungere io direi di andare nella schermata della personale vedere se abbiamo dei punti sviluppo da assegnare ma non credo non abbiamo assolutamente dei punti sviluppo per quanto riguarda i nostri piloti ugualmente non ne abbiamo abbiamo assegnato quello a Nikita Mazepin Nicola Salatifi non ha punti sviluppo e a questo punto 5 milioni e 9 possiamo andare nelle strutture possiamo costruire l'heliporto per cominciare a migliorare un po' le strutture della nostra scuderia visto che la spesa è minima 780 mila dollari punto di accoglienza 1 milione e 8 non lo andiamo a spendere voglio spendere nelle strutture operative non il centro meteorologico che costa tanto sala dei cimeli non costa tanto poco meno di un milione centro visite lo possiamo migliorare ci permette un aumento di introiti nella nostra scuderia reparto scouting no hub di squadra un milione e mezzo però non è ancora il caso anche se ci permette di aumentare l'esperienza settimanale del personale però forse meglio il simulatore di gara un milione e 9 hub di squadra raga hub di squadra o simulatore di gara gara simulatore di gara perfetto avevo la stessa idea perché hub di squadra un milione e mezzo il simulatore di gara ci dà esperienza settimanale dei piloti quindi può crescere di più Nikita Mazepin sperando che possa crescere abbastanza da poterlo portare al mondiale perché penso che tra i due sarà più Mazepin il fattibile da portare al mondiale aggiornare quindi un milione e 9 spesi i soldi ci rimano un milione e 6 da parte abbiamo quindi terminato con le strutture direi di proseguire nel nostro calendario perché non dobbiamo fare altro proseguiamo obblighi sponsor costruzione dell'heliporto completato quindi proseguiamo ancora verifica fiducia del consiglio abbiamo i resoconti la costruzione dell'heliporto che ci permette di aumentare gli obiettivi sponsor e l'attrattiva di squadra c'è un costo maggiore ma ciò a lungo termine dovrebbe permetterci di guadagnare soprattutto per quanto riguarda gli sponsor il problema è che al momento non abbiamo degli sponsor però è importante aumentare l'attrattiva della squadra aggiornamento di un'altra struttura la sala dei cemeli che invece ci permette degli introiti se non sbaglio andiamo a vedere costi più 3.000 all'incirca no aumenta il morale e l'attrattiva della squadra ero convinto che ci desse anche un aumento di introiti non era quella la struttura e arriviamo all'8 8 aprile 8 aprile 2022 terzo round della stagione abbiamo quindi terminato con questo episodio ci fermiamo qua anteprima di gara per l'Australian Grand Prix terzo round della stagione ci sarà ancora da soffrire sicuramente quindi ragazzi passiamo alla altra schermata la schermata in cui vi saluto vi ringrazio ragazzi vi ringrazio per aver seguito questa live spero che sia andata un po' meglio rispetto alla precedente per quanto riguarda la qualità della connessione spero che vi sia piaciuto questo episodio purtroppo la qualità al momento degli episodi non è così elevata perché lo sappiamo dobbiamo soffrire in questa probabilmente in tutta questa prima stagione ci sta tutto dover soffrire in questa prima fase però mi ha fatto molto piacere mi fa molto piacere la vostra compagnia i vostri consigli eccetera eccetera quindi ci rivediamo molto presto con la prossima live come detto seguitemi su tutti i social di modo da sapere quando si riendrà in live io vi saluto vi ringrazio vi auguro buonanotte e alla prossima ciao wheelers grazie a tutti Grazie.